SVG ha condotto uno studio sugli aretini tra il 18 e il 22 gennaio in tema di rifiuti. È stato coinvolto un campione rappresentativo della popolazione residente nei comuni di Arezzo e Civitella, 601, le persone intervistate. Secondo l'indagine, che è stata diffusa da AISA e che sicuramente farà discutere, la gestione dell'impianto di San Zeno viene valutata positivamente. La quota di chi ritiene che negli ultimi anni vi sia stato un miglioramento è fortemente aumentata, addirittura raddoppiata rispetto all'analoga indagine effettuata a inizio 2015. Solo un cittadino su 5 non conosce AISA impianti, inoltre gli intervistati hanno dimostrato di essere maggiormente informati sul funzionamento del termovalorizzatore e sulle attività che si svolgono. C'è una trasfera di fiducia nella buona gestione. Non solo. Il 75% degli intervistati si dichiara favorevole all'incremento delle funzioni dell'impianto, tra cui il compostaggio e la produzione di biometano. In forte aumento la fascia di popolazione, che ritiene la situazione ambientale del proprio territorio di residenza ottima o accettabile. Più del 70% degli intervistati ritiene che occupazione e sviluppo economico debbano passare attraverso la tutela dell'ambiente. Tuttavia i cittadini si rendono conto di non fare abbastanza per la salvaguardia della natura, ritengono il comportamento dell'individuo centrale, ma cominciano a richiedere impegno anche ad aziende e istituzioni. Il settore messo maggiormente sotto la lente è proprio quello del riciclo e della raccolta differenziata. Questo tema rappresenta un nodo ancora da sciogliere. Come livello di attenzione, il dato aretino è migliore di quello nazionale, ma c'è ancora molto da fare, soprattutto sulla qualità della raccolta differenziata dell'organico. All'aumento dell'informazione, invece, fa ecco la diminuzione della percentuale di rischi correlati alla presenza del termovalorizzatore. Tra le fonti di informazione vince ancora la tv per il 57%, cresce il peso di internet 39%, che supera i giornali cartacei, seguono radio, conversazioni con amici e parenti, associazioni, comitati e riviste specializzate.